Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di L2, bene, andiamo avanti Bene Ok Cazzo Tevano sparargli, vero? Che cazzo è stato? Non so se basterà Secondo me è una spedetta di tempo Però Ok, questa è andata Forse è questo? Vediamo un po' se lo trovo Vai Sì, ma l'ho mancato la grande Ok Perfetto Altri? Proviamo A vedere se Ok Se lo trovo, eh, perché Devo essere molto cauto Nel sparare questo colpo, perché Ah beh Purtroppo avevo finito i colpi Amen Cosa c'è di bello qui? Con l'altra? Scusate Carico 108 di nuovo Perfettico Mi sei piaccionato Ah Dai, non è andato malissimo Adesso mi faccio una morte da panico Cioè Il fucile a cechino Sì, servirà a fucile a cechino Scusate Fatemi trovare Tant'altro Sono sicuro che servirà Lo sostituisco un attimo a questo Io lo ammazzo Sto coso Mi fai quello, grazie Questo, grazie Questo Allora Io non riesco a capire Perché porca troia Facciamolo fuori Bene allora Non mi infiggio Ok Dopo lo prendo, vero? Allora Vediamo un pochino Allora Perfetto Uno è andato Questo è meno potente rispetto Però Mi accontento lo stesso È gratis E ho fatto la mia vera figura di merda Ok, dai Una video ci sta sempre Non vi preoccupate Porca vacca Non è possibile Ok, allora Cerchiamo di capire Dove cazzo Non posso andare Dove no Perché Sarebbe bello Ecco qua E basta Dai, vieni fuori E fatti ammazzare Ma Non è proprio Vabbè Sono scappati Vado a riprendermi Il mio ufficio da pompa Perché io Quattro colpi Non posso andare In nessuna parte E quindi Sì Ok Questo non mi interessa Ma mi interessa questo Perfetto Possiamo andare tranquillamente Cambiamo arma La prima colazione Grazie Con questa facciamo di più 108 Spendiamo bene Allora Controlliamo Ah c'è una cazzo È la più grande flotta Covenant Che io abbia visto Che chiunque Abbia mai visto Entriamo nel tempio E uccidiamo rimorso Prima che possa fermarci Quale cosa Stavo dicendo Volevo andare a vedere Un attimo qua E questo Non me lo chiedo Neanche che cos'è ormai Andiamo su Chi è? Ma non si fa così Guardi Si fa così Salve Muore lei Grazie Anche lei E anche lei Oh L'ho mandato A quel paese Ok Perfetto L'ho mandato A quel paese Scusi Grazie Molto gentila Stava mi piace tanto È fatta bene Sapete Ok Scusate Attraverso il mondo Il fucile È dura Sapete Vabbè Andiamo avanti Con questo Peccato Che c'è un limite Di così poche Porca Oh ma si è fatto malo Oh ma si è fatto male Quanto mi dispiace Oh ma cosa c'è qui Appena ho finito Il fucile a pompa Andiamo di Oh Questo posto È pieno di guardie Guardati le spalle Le palle Mi guardo Perché qui C'è La tocca La toccarsele No Perfetto Dite che non è buono Un fucile a pompa Salve Porca vacca E siamo giù due Caricherei magari Gatti E semplicemente Così tanto tempo Oh Mi dispiace tanto Oh Mi dispiace ancora Ah Anche per lei Ok Salve Non sapevo se era vivo Morto Ho esitato Vediamo un po' Cosa c'è di buono Chi è che mi ha Puzzecchiato Qui Ecco il bersaglio Eliminiamo Chi è tu L'avrai visto Ma fammelo vedere Anche a me Porca miseria Ecco il bersaglio Chi cazzo è Che non vedo niente io Allora Un attimo sciolo Ok Salve Oh cazzo Aia Stop Eh Purtroppo Mi tocca andare A eliminare Fino questi Lo so che È brutto Ma Ok Carica Un attimo Non mi mettere fretta Devo prima caricare Devo fare tante cose Insomma Carichiamo bene Scusate Ma mi ha intervesso Il mondo qua Ok Oh grazie Mi ha detto La pistola Facemi vedere Ma non è che Me li tirano Finchè Non lo elimino Oh cazzo Cazzarola Eh Che Cioè Sembra facile Ma con la tastiera Devi prendere un pulsante Poi l'altro Poi quell'altro E viene fuori Un cazzo di casino Eh Santa miseria Ok Cerchiamo di vedere Cosa Allora Provo a fare una prova Lo so che È una kamikazata Una kamikazata Eh Ci ho provato Però Oh Forse Ce la potevo anche fare Forse Ce la potevo anche fare Perché Non ho guardato Poi le spalle Effettivamente Tieni Tieni Ok Ok Cazzarola Ok Perfetto Eh la miseria Sono Ce la facevo Sono sicuro che ce la posso fare La tantica è bella e buona Solo che non sapevo che dovevo Cliccare la cuccia Ho visto dopo Cazzo Cazzo L'ho fatto Eh ho sbagliato Devo incominciare a pensare Di prenderlo Quello Oh salve Eh Lo so ragazzi È una cretinata Però ogni volta Cambia qualcosa Porca miseria Eccolo qui Quindi Vorrei prima ammazzare Questi bastardi Se li trovo Ok Ok Una volta ammazzati questi Ho un po' più tempo Eh cazzo Quanto sei lento Quanto sei lento A caricare Adesso non ci sono gli altri Ok Oddio Era facile Era facile Era facile Wow Oh cazzo E quello cos'era Fantastico Rimorso Hanno fatto una cimera Da panico Delicatesse Tutto ciò è senza precedente È inaccettabile Un gerarca Un gerarca è morto Comandante Avevamo l'assassino A portata di mano Se non avessi ritirato I phantom Stai discutendo La mia decisione No profeta Voglio solo esprimere La mia preoccupazione Quanto è brutto La variazione La variazione della guardia è stata un passo radicale Ma i recenti sviluppi hanno mostrato che gli elite Non sono più in grado di garantire la nostra sicurezza Riferirò questa decisione al concilio Politica Che noia Sai Arbiter Che gli elite hanno minacciato di dimettersi? Di lasciare l'alto concilio? Per via di questo scambio di ruoli Siamo sempre stati i vostri protettori Questi sono tempi difficili per tutti noi Anche se l'annientamento degli umani ci ha riempito di gioia La perdita di uno degli anelli sacri grava sui nostri cuori Abbiamo messo da parte il nostro dolore E rinnovato la fede nella profezia che predice il ritrovamento di altri anelli E ora la nostra fiducia è stata ricompensata Alu Il suo vento divino spazzerà le stelle Instradando coloro che ne sono degni verso la salvezza Ma come avviare questo processo? Per lunghe ere abbiamo cercato qualcuno che svelasse i segreti degli anelli Un oracolo E ora grazie al tuo aiuto l'abbiamo trovato Con la necessaria umiltà abbiamo posto un quesito all'oracolo E dei con grazia e chiarezza ci ha mostrato la soluzione Tu raggiungerai la superficie dell'anello e recupererai questa icona sacra Con essa la nostra promessa si compirà Salvezza per tutti Il grande viaggio avrà inizio Una volta eliminato lo scudo ci dirigeremo alla biblioteca Non voglio far aspettare i gerarchi L'umano che ha ucciso il profeta del rimorso Chi è? Tu cosa ne dici? Il demon è qui Perché? Hai voglia di vendicarti? L'unico mio pensiero è impadronirmi dell'icona Ma certo C'è uno scudo, Arbiter Tornerò quando avrai finito Meno male che ci ha aiutato lui Ok Un silenzio preoccupante Ma che cazzo è quel coso? Bah Vabbè Vediamo cosa possiamo prendere Oh salve Quante armi Quindi c'è solo l'imbrato della sielta Eh Io Opterei per quello da cecchino Che ovviamente sarà qui nel casino Vero? No quel cazzo mi ha risposto Che sia qua Cos'è sto coso qui luminoso? Che ci faccio una bella figura di merda Preparatevi che sta arrivando Eh C'è i denti Preparatevi che Scuso che stia arrivando la figura di merda Allora Vediamo un po' Beh Almeno queste qui sono efficaci Sono queste armi Questa cos'è? Niente ancora Sento che arriva qualcosa Eccolo qui Ok Andata giù Carichiamo Che armi ho di secondaria Potrebbe anche darmi bene Ne ho tanti in giro Vabbè dai proviamo Chi è? Santa miserica Mi hai fatto prendere un bel colpo Sì ma Varga vaga Cioè Nell'uno Questa qui è un'arma di una potenza inalata Qui fa proprio cacare Che è proprio Uno schifo di sputto Vabbè Fatemi vedere dove devo andare Va Dove devo andare Dove devo andare Ci deve essere una via Che mi è sfuggita Ho detto io che sta arrivando la figura di merda Voi non ci cadavate Allora Vedete È molto potente questa arma Ok 72 Io non ho problemi a ricaricare Il problema è che non so dove cazzo andare Santa miserica Oh ma Mi sa che qui Arrivano all'infinito Allora Ci deve essere qualcosa Ah ok Per attivare il pistolone Eh non l'avevo visto Che il pistolone si attivava Oh ma Si è infilato dentro Oh ma che palle Ok L'altro pistolone da attivare Dov'è? Ci deve essere un pistolone da attivare Vediamo un po' se lo trovo Qua Te hai rotto Il po' i maroni sai Ok Attiva sto pistolone qui Che è sempre Sembra lo stesso E quindi devo andare giù qui Oh come sarà brutto No per me qui si muore Salve È stato molto bello Salve Oh era già morto Cavolo è fatto una discesa da panico eh E' un altro pistolone da attivare Qui cosa c'è di bello? Un casso Oh cavoli Eccoci qua ci siamo L'ho capita Ci sei arrivato Non ci credo Ma sto coso cos'è? Io non lo so Oh qui c'è qualcosa No non c'è niente Sto cercando di capire Per me è tutta roba nuova Ecco qui Quindi Quindi andiamo E vediamo Ho visto qualcosa Salve Lei si chiama Scassamaroli Di cognome no? Perché chiedo eh Diciamo Eccolo un altro Eccolo qui 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 Ok C'è un altro Salve Ok Se devo fare solo questa Questa cosa qui E non è difficile Attiviamo il pistolone Adesso che ho capito È una cacata eh Ok super atto Eh sì sì Ok Oh cazzarola Ok Cerca di muoverci spesso Non di sotto Possibilmente Che devo capire esattamente Dove devo andare Non è che sia una cosa Molto intuitiva Forse di qua Avvicini a uno dei generatori Dello scudo Molti dei miei brut Sono caduti Nel tentativo di distruggerlo Vediamo se saprai fare di meglio C'è grazie eh Però Molto incoraggiante Speriamo di capire Come Superare il tutto Allora C'è qualcuno Che rompe i marroni Ok Uno è andato O c'è un altro Salve signor Signore Carichiamo Eh questo 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 Lo preferisco a questo Scusate Me lo fai prendere È vuota Se non me la segna Vuol dire che è vuota Che bello Vabbè Presumo che sia qui Il punto Che debba andare eh Mi sto avvicinando Mi ha detto Se sono emozionato Prendiamo pure Qua cos'è Niente Oh salve Sì ma io L'ho presa alle spalle Mentre non lo sapeva E non è neanche morto Sono molto potenti Sti elite Sì Sì Miserica Ok Porca vacca Eh ma insomma Aspetta un attimo Morici Eh che cazzo Se questo Morisse un attimo Grazie Io penserei Anche a questi Perfetto È andata bene Dai Ho anche 54 munitioni Dai Non mi è andata malissimo Questo Era Quell'altro Che io volevo No è sempre questo Ok Scusi Ok Grazie Molto gentilo Dai Ce la stiamo facendo Abbastanza bene Perché devo peggio Ok Eh dimmi come però Cioè non dirlo solo Ok Che se ne vada Ok ho capito Stranamente ho capito Stranamente Ok tu mi hai visto Mi stanno le ombre Mi stanno le ombre Questo cos'è Non è niente Ok cerchiamo di Vedere di come fare Questa è la gatta Qua però C'è un simbolo Anche qua A parte che questa qui Ok Tu dici Se resta nelle ombre E hai ragione Per carità Però Ancora uno arbiter Sì sì Io resto nelle ombre Proprio nelle ombre Sono stato Tu mi stai chiedendo Una cosa Che io non ho capito Come farlo Sai Allora Vediamo un pochino Se io prendessi Fucile del secchino Che avevo visto Però non so dove sia Ok Forse qui No Oh Beh è stato facile Dai Pensavo peggio Se vorrei essere sincero È stato abbastanza Intuitivo E adesso Dovevo andare Che bello C'è un contento Dai Ce l'ho fatta bene Dai ci salutiamo Eh E questo è il mio amico Vediamo il check Qua Sì Come no Insomma È carico Jack qua è superato Perfetto ragazzi Per questo video è tutto Noi ci vediamo al prossimo video Con alo E vi invito Come sempre A lasciare un like e un commento Sì mi piace la serie E di farmi sapere Cosa ne pensate Un attimo solo Però insomma Che palle Io stavo facendo L'outro Stavo facendo l'outro Io Diciamo Ho fatto perdere un colpo Ok Non si fa niente qua E mi tocca più forte Abattarli Non c'è niente da fare Possiamo fermare un attimo No eh Per carità È troppo brutto Per fermarci Dopo Santa miserica Avete fatto prendere Un cazzo di colpo Inlassati In un secondo Però eh Ok Eh vabbè È andata così Dovevamo Dovevamo chiudere Quindi Vi do Un saluto da cima Ciao ciao